Cari amici, sono entusiasta di darvi il benvenuto sul mio canale. In questo video esploreremo insieme le prossime anticipazioni di Terra Amara. Sveleremo ciò che accadrà nelle puntate in onda martedì 6 e mercoledì 7 giugno. La trama si complica quando Ilmaz si ritrova nell'ufficio di Jolid per affrontare la difficile situazione di Zuleia. Senza mezzi termini, Ilmaz ammette che tutti loro sono responsabili della disastrosa situazione in cui si trova la giovane donna. Con una particolare colpa attribuita a Dunkar, è stata infatti la madre di Demir a separare Zuleia da Ilmaz e a costringerla a sposarlo contro la sua volontà. Demir a sua volta si rivela colpevole per il tormento che ha inflitto a Zuleia e per averle strappato i suoi amati figli. Purtroppo Ilmaz si incolpa anche per aver sposato Mujgan, convinto che Zuleia avesse accettato l'offerta di Demir unicamente per motivi finanziari. Tuttavia anche Mujgan con la sua gelosia sfrenata ha contribuito a innescare una serie di eventi che hanno portato alla tragedia attuale. L'unica persona che emerge senza colpe in questa storia è proprio Zuleia, ora imprigionata senza possibilità di rivedere i suoi bambini. Jolid assicura ad Ilmaz che farà il possibile per ottenere una condanna più leggera, ma l'uomo decide di assumere un avvocato per garantire una difesa adeguata. Jolid spiega che se Demir dovesse sopravvivere la pena potrebbe non essere troppo severa, ma quando Ilmaz chiede cosa accadrebbe se il suo rivale dovesse morire, la donna non fornisce una risposta. Nel frattempo l'operazione chirurgica di Demir, eseguita da Sabatin, incontra alcune difficoltà. Ouka, rodendo un'infermiera a chiedere ulteriore sangue, cade nel panico, convinta che suo figlio stia morendo. Presa dallo sconforto, urla disperata, mentre Fecheli le offre il suo sostegno, rimanendo al suo fianco. Zuleia varca le porte del carcere di Adana e viene condotta nella sua cella. Subito è nata una madre addormentata accanto al suo bambino e si lascia travolgere dalle lacrime, consapevole della lontananza dai suoi figli. Nel frattempo, quando Musgan fa ritorno a casa, Fecheli chiede dove sia stata e confessa di essersi preoccupata. Musgan spiega di aver seguito Zuleia, inseguendola mentre veniva portata via e stando accanto durante l'interrogatorio. Fecheli, senza comprendere appieno le conseguenze delle sue azioni, continua a interrogare Musgan, che scompiando in un pianto amaro, dichiara di aver perso Ilmaz. Ilmaz, riflettendo amaramente, si trova di fronte alla porta del carcere e si pente delle accuse che ha rivolto a Zuleia, rendendosi conto di quanto l'abbia fatta soffrire. Nel frattempo, Cettine e Gaffur, armati di bastoni, raggiungono gli uomini che avevano insultato Gulter e Zuleia, dando inizio a una rissa in cui i due difensori della famiglia li colpiscono duramente. Terminata l'operazione di Demir, Cettine riferisce a Unkar che tutto è andato bene, ma il giovane è ora ricoverato in terapia intensiva a causa di lesioni a un polmone e a un rene. Unkar e Fecheli osservano attraverso il vetro della stanza dove Demir si trova e lei confessa a Fecheli che Demir è cresciuto quasi senza la presenza del padre, poiché Adnan era sempre occupato con la sua amante. Unkar si era promessa di non abbandonarlo. Successivamente Unkar consiglia a Fecheli di tornare a casa poiché hanno passato tutta la notte insieme e lui sicuramente è stanco, ma Fecheli risponde determinato che non la lascerà sola e la confronteranno insieme questa difficile situazione. Nel frattempo, in carcere, una guardia consegna a Zuleia delle coperte che sono state inviate e ordina un'altra intenuta di rifare il letto. Tornando a casa, Ilmaz comunica freddamente a Mojian che presenterà la domanda di divorzio. Nonostante non le venga impedito di vedere il loro figlio, a Mojian viene evitato di portarlo via e Ilmaz la mette in guardia da tentativo di rapirlo, sottolineando che se lo farà, lo ritroverà e lo riporterà con sé. Fecheli cerca di intervenire per placare la situazione, ma Ilmaz la blocca, affermando che ciò che prova va ben oltre la rabbia e se ne va. Mojian lo insegue e cercano di fermarlo, escusandosi, ma lui non l'ascolta e se ne va lasciando la terra piangere. Intanto, alla villa, Gulten si prende cura dei bambini con l'aiuto di fadiche e saniglie. Tuttavia, l'infermiera di Amminne decide di rimettersi, spaventata per quanto accaduto alla villa. La situazione si fa sempre più complessa e drammatica per tutti i personaggi. Zuleia è in carcere ed emira in pericolo di vita in terapia intensiva. Mojian ha perso Ilmaz e quest'ultimo è determinato a chiedere il divorzio. Unkar e Fekiri cercano di sostenersi a vicenda, mentre Cetin e Ghaffur lottano instancabilmente per proteggere la famiglia. Unkar telefona alla villa e informa Sanije che Demir è stato operato, rimanendo in attesa che si risvegli dal coma. Le raccomanda di fare attenzione ai bambini e alla madre, sottolineando l'importanza di prendersi cura di loro. Preoccupata, Sanije confida a Fadik che se Demir non si sveglia potrebbe morire. Decidono quindi che Sanije si occuperà di Amminne, affidando la gestione della cucina a delle donne, in modo che la casa possa continuare a funzionare. Zuleia parla con la madre, che ha con sé il suo bambino. La madre le rivela di essere stata condannata all'ergastolo e di avere il figlio con sé perché non ha nessuno a coaffidarlo. Zuleia, triste e isolata, diventa bersaglio e viene infastidita da alcune delle detenute. Il giorno del processo, Zuleia viene condotta in tribunale. Appena entra in aula, nota Ilmaz che la sta aspettando. Successivamente entrano Juleid e i giudici. Zuleia si rende conto che ancora non ha l'avvocato e Juleid informa ai giudici che l'avvocato sarà presente solo a partire dalla prossima udienza. Juleid illustra il caso spiegando che l'imputata ha sparato accidentalmente a un uomo. Il giudice ribatte che tre colpi costituiscono un tentato omicidio e richiede di modificare l'accusa di conseguenza, decretando il proseguimento della detenzione di Zuleia. Quando Zuleia viene portata via con le manette, Ilmaz le assicura che la salverà e non la lascerà mai sola. Successivamente, Ilmaz si reca nell'ufficio di Juleid, la quale gli comunica che il giudice non ha accettato la sua versione dei fatti e che ora dovrà preparare un atto di accusa per omicidio. Tuttavia, Juleid promette di cercare una soluzione alla situazione. Ilmaz preoccupato, bietta Juleid che il giudice farà rimanere Zuleia più a lungo in prigione. Juleid consiglia Ilmaz di mantenere la calma, spiegandoli che ci sono molti modi per risolvere il problema legale. Ilmaz decide quindi di cercare un avvocato per difendere Zuleia. Sanie si reca a casa di Nassie e le chiede di parlare con lei. Nassie l'accoglie gentilmente e Sanie le racconta di Gaffur, spiega che Gaffur era stato inviato da Unkar per riscuotere dei soldi, ma lungo la strada era stato derubato dopo che Atip lo aveva fatto ubriacare. Quando Gaffur aveva chiesto aiuto ad Atip, quest'ultimo gli aveva dato i soldi, ma gli aveva fatto firmare una cambiale di 100.000 lire. Sanie spiega che hanno restituito quanto potevano, ma non hanno altri soldi da dare, e in paese tutti dicono che il furto sia opera di Atip. Sanie chiede quindi a Nassie se crede che il marito sia innocente, e sì, si impegnerà duramente per ripagare quei soldi. Nassie, addolorata, risponde che il marito è capace di farlo e chiede del tempo per risolvere la situazione. Nel frattempo, in prigione, le compagnie di Zuleia la prendono in giro e la umiliano, costringendola a fare i lavori umilianti. Nassie va dal marito, che sta dormendo, e prende un mazzo di chiave attaccato alla sua cintura. Poi raggiunge Sanie, che l'aspetta in strada. Insieme si recano nell'ufficio di Atip. Nassie apre la cassaforte e prende un mazzo di cambiali, restituendo quella di Gaffur. Sanie benedice Nassie e bacia le sue mani, ma poi, preoccupata, chiede se Atip gli farà del male quando lo scoprirà. Nassie rassicura Sanie e decide di non preoccuparsi e restituisce anche i soldi che aveva dato ad Atip, anche se Sanie non li vuole. Commossa, Sanie abbraccia Nassie e le rivolge un sentito ringraziamento. Gaffur si trova in cucina con Gultene e Fadik, lamentandosi della mancanza di attenzioni da parte di Sanie. Quando la ragazza entra in cucina, Gaffur si spaventa e cerca di giustificarsi, dicendo di essere solo preoccupato per lei. Sanie gli consegna la cambiale che aveva firmata a Atip e gli racconta la storia di come è stata truffata. Gaffur è sorpreso e le chiede come ha fatto a recuperare la cambiale. Sanie gli spiega che è andata a parlare con Nassie e che gli era restituita perché è una donna onesta. Gaffur strappa la cambiale e abbraccia Sanie e è grato per la sua azione. Successivamente Sanie mostra a Gaffur i soldi che hanno già dato a Atip e gli dice che li utilizzerà per aprire un conto per Uzum, in modo che possa ricevere un'ottima educazione. Gaffur è commosso e ringrazia Sanie per aver pensato al futuro di Uzum. Il giorno successivo Unca si trova dietro il vetro della terapia intensiva a migliare Demir. Sabattina arriva e le dice che Demir è forte e si riprenderà, incoraggiandola a essere forte per il bene dei suoi nipoti. Fecheli sta facendo colazione con Beice quando Ilmaz arriva. Muskan lo segue e gli chiede di poter parlare, ma lui si chiude nella camera del bambino. Da fuori Muskan si scusa, ma Ilmaz non l'ascolta e tiene il suo bambino tra le braccia, chiedendogli perdono per non avergli offerto una famiglia felice. Più tardi Ilmaz va in carcere per incontrare Zuleya e le riferisce che Demir è ancora vivo. Zuleya gli confessa che aveva sparato per ucciderlo, ma Ilmaz le ribatte che se Demir morisse non potrebbe farlo uscire di prigione. Lei gli risponde che accetterà qualsiasi pena perché è quello il loro destino. Ilmaz le dice che insieme cambieranno il loro destino e le chiede di continuare a combattere per la loro felicità. Nel frattempo Beice accusa Muskan di aver orvinato una relazione meravigliosa e di aver spinto suo marito verso Zuleya. Ora però impone le sue condizioni per il divorzio, rendendo ancora più complicata la situazione già delicata. Muskan dice a Beice che non vuole divorziare, ma Beice le spiega che non si può tornare indietro dopo quello che ha fatto. Ilmaz si incontra con Fekeli e dice che non può dare un'altra possibilità alla sua famiglia, dopo che Muskan per la sua gelosia ha spinto Zuleya a tentare il suicidio. Non può perdonarla e per lui ora Muskan è solo la madre del loro figlio. Ilmaz è preoccupato solo per Zuleya che è innocente e cerca un bravo avvocato per difenderla perché è sicuro che la famiglia Yaman chiederà per lei la massima punizione. In seguito Unkar va a trovare Zuleya in carcere e lei le chiede scusa per quello che ha fatto, spiegandole che non aveva scelta con Demir. Unkar le risponde che lo sa e che non la lascerà in mani sola. Il suo avvocato sta lavorando sul caso e la farà uscire al più presto. Così potrà riunirsi ai suoi figli. Zuleya accetta la sua punizione ma Unkar le promette che non verrà punita e che tornerà dai suoi bambini. Zuleya chiede il motivo per cui la sta aiutando dopo che ha sparato suo figlio ma Unkar non risponde e le chiede di mostrare ai suoi figli. Unkar streggia tra le mani Zuleya e le promette che farà tutto il possibile per farla uscire di prigione e riunirla con loro. Terminano qui le anticipazioni. Se il video è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscriverti al canale. Per non perdere le future anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo presto. Ciao!